Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo mio nuovo video. Oggi vi porto un video dedicato a tutte quelle persone che stanno utilizzando Elementor Pro all'interno dei loro siti WordPress. Ho specificato Elementor Pro perché questo video tutorial vi è di aiuto appunto se state utilizzando la versione premium di Elementor, ovvero la versione a pagamento. Ad ogni modo ragazzi all'interno di questo video vi faccio vedere come potete andare a creare un modulo di contatto andando ad utilizzare esclusivamente i plugin Elementor. Quindi senza il bisogno di andare ad installare dei plugin esterni appunto per andare a creare il vostro modulo dei contatti. Comunque ragazzi come sempre se questa è la prima volta che vedete uno dei miei video tutorial, io mi chiamo Roberto Marchesini e sono il fondatore di assistenza WordPress. Ovvero un sito web dove io insieme al mio team aiutiamo soprattutto aziende e professionisti a crearsi e a gestirsi il proprio sito web utilizzando la piattaforma WordPress. Naturalmente abbiamo avuto modo già di utilizzare questo elemento di Elementor per andare a creare dei moduli di contatto sia per i nostri siti ma anche per i siti dei nostri clienti. Quindi insomma conosciamo molto bene questo modulo e sono sicuro che lo andrete ad utilizzare anche voi all'interno del vostro sito per andare a creare il vostro modulo dei contatti. Ovviamente ancora ci tengo a specificare se anche voi state utilizzando Elementor Pro all'interno del vostro sito WordPress. Quindi detto questo direi di passare subito alla parte pratica così vi vado a far vedere insomma come potete andare a creare il vostro modulo di contatti utilizzando il plugin Elementor. Quindi passiamo subito alla parte pratica di questo video. Allora ragazzi attualmente ci troviamo sul mio sito demo che praticamente si trova su assistenza.wponline.net. Comunque sia adesso se vado sulla pagina dei contatti di questo layout demo che mi sono importato come potete vedere adesso troviamo già un modulo dei contatti. Però questo modulo è stato praticamente realizzato utilizzando il plugin vpforms. Infatti se adesso vado sul backend di WordPress come vedete all'interno di questo sito web è attivo il plugin che si chiama vpforms lite. E naturalmente noi non vogliamo fare questo perché Elementor Pro ancora se avete la versione a pagamento di Elementor vi permette di andare a generare dei moduli di contatto praticamente da inserire su qualsiasi parte volete all'interno del vostro sito. E naturalmente potete andare a creare quanti moduli di contatto volete all'interno della vostra installazione WordPress. Quindi detto questo semplicemente adesso come vedete ho attivo il plugin Elementor Pro, ho attivo anche questo plugin. Comunque sia semplicemente vado a modificare la pagina dei contatti cliccando ovviamente su modifica con Elementor e adesso si aprirà appunto l'editor visuale di Elementor che ci permetterà di andare ad aggiungere l'elemento relativo alla creazione dei moduli di contatto e ci permetterà anche di andare a personalizzare davvero al massimo il nostro modulo. Comunque adesso vi faccio vedere. Ecco qua e come vedete se vado a cliccare su questo modulo qui dentro praticamente c'è lo shortcode del plugin WPFarms quindi giusto per farvi vedere che effettivamente questo modulo era stato creato insomma con WPFarms. Ora semplicemente vado a cliccare su questa icona e qui sulla barra di ricerca semplicemente andate a scrivere modulo ed ecco qua l'elemento modulo che vi serve appunto per creare il modulo di contatto. Quindi prendete questo elemento e lo andate a trascinare all'interno della vostra pagina. Io per farvi vedere insomma lo vado a trascinare semplicemente sotto a questo testo ed ecco qua e come vedete Elementor in automatico vi va a creare un semplice modulo di contatto che ha praticamente il nome, l'email e il messaggio e naturalmente il pulsante invia. Quindi come vedete già di default Elementor vi crea questo template ma poi ovviamente andando qui sulla sinistra potete andare ad aggiungere altri campi all'interno del vostro modulo. Quindi andando a cliccare su aggiungi elemento naturalmente qui su tipo andate a cliccare su questo menu a tendina e qui come vedete avete da vario tantissime tipologie di campi che potete andare ad inserire all'interno del vostro modulo. Ad esempio visto che qui insomma sul modulo dvp farms c'è la richiesta del numero di telefono semplicemente da qui praticamente vado a selezionare il campo testo e qui su etichetta posso andare a scrivere appunto numero telefonico in questo modo. E come vedete poi se volete potete andare ad inserire anche il segno a posto quindi magari in questo modo lo vado a copiare eccolo qua e adesso come vedete abbiamo inserito questo campo aggiuntivo. Naturalmente per spostarlo con Elementor è davvero molto molto semplice prendete praticamente l'elemento tenete premuto il tasto sinistro del mouse e lo andate a trascinare magari qui sotto al nome. E come vedete ecco qua che adesso il campo è stato spostato ovviamente ragazzi se adesso vado a cliccare su aggiornare e andiamo a vedere proprio la pagina diciamo lato front end vedete che ecco qua che il nostro modulo di contatto è già stato creato. Ovviamente dovete anche andarvelo a personalizzare comunque vi faccio vedere molto velocemente perché sicuramente se state utilizzando già Elementor sul vostro sito già sapete come andare a modificare insomma i vari elementi. Comunque è molto semplice per andare ad esempio a modificare mettiamo caso questo pulsante andate qui su pulsanti e qui ovviamente trovate delle impostazioni per quanto riguarda l'allineamento del pulsante. Quindi potete metterlo qui a sinistra come questo pulsante allinearlo al centro a destra oppure insomma renderlo giustificato in questo modo. Ovviamente potete anche andare a modificare la dimensione andando a cliccare su queste voci e così via. Ora per andare a modificare proprio l'aspetto grafico del modulo dei contatti vi basta semplicemente andare qui su stile e qui trovate tutte le impostazioni di tutti questi campi. Quindi ovviamente per andare a modificare il pulsante andate qui su pulsanti e come vedete qui potete andare a cambiare la tipografia del pulsante, il tipo di bordo e così via. Ad esempio se volete andare a cambiare il colore di sfondo del pulsante semplicemente andate qui su colore del sfondo e lo andiamo a rendere magari rosso in questo modo. Come vedete ecco qua che il colore del pulsante insomma è diventato rosso. Se andate qui su over praticamente adesso vi faccio vedere vado a scegliere magari il blu giusto per mettere un bel po' di contrasto e ora se sposto il mouse sopra il pulsante ecco che come vedete al passaggio del mouse il pulsante diventa di colore blu. Quindi se volete andare a modificare questa cosa la potete fare andando a cliccare qui su over. Quindi questo per quanto riguarda la modifica del pulsante. Per andare a modificare gli altri campi ovviamente andate qui su campo e qui diciamo trovate tutte le impostazioni per quanto riguarda l'aspetto grafico appunto di tutti questi campi. Comunque una cosa molto importante che mi sono dimenticato di dirvi prima. Se tornate qui su contenuto naturalmente una cosa super importante è quella di andare qui su azioni dopo l'invio e da qui naturalmente potete andare a decidere le azioni che succedono una volta che l'utente va a cliccare sul pulsante invia. Quindi come vedete di default Elementor va a raccogliere praticamente il numero di invii effettuati sulla pagina dei contatti e va a raccogliere anche proprio l'email o meglio va ad inviare tutti i dati di questa email sia all'utente ma anche a voi. Quindi qui se andate qui su email come vedete potete andare ad inserire il vostro indirizzo andare a cambiare l'oggetto se volete e qui vi consiglio semplicemente di lasciare questo shortcode che praticamente vi va ad inserire in automatico tutti i dati che sono stati compilati dall'utente all'interno del vostro sito. Quindi una cosa molto importante qui se volete potete andare a cambiare chi va ad inviare l'email dal vostro sito e così via. Qui trovate anche i metadati se volete andare a modificarli e se andate qui su impostazioni step se volete praticamente Elementor vi permette anche di andare a creare dei moduli multistep quindi praticamente un modulo che qui al primo passaggio l'utente dovrà andare a compilare determinati campi poi andando a cliccare su un pulsante ad esempio successivo gli verranno mostrati degli altri campi che l'utente dovrà andare a compilare. Quindi questa cosa ottima per quanto riguarda Elementor. Quindi come avete visto andare a creare un modulo di contatti utilizzando Elementor è davvero molto molto semplice. A questo punto ovviamente semplicemente andate ad eliminare magari questo modulo quindi andiamo a cliccare qui e facciamo elimina. Andiamo naturalmente ad aggiornare la nostra pagina quindi ecco qua che adesso la pagina è stata aggiornata. In automatico viene fatto il refresh e come vedete adesso abbiamo creato con successo il nostro modulo dei contatti andando ad utilizzare semplicemente Elementor Pro. Quindi a questo punto naturalmente potete semplicemente tornare sul back end del vostro sito e andare a disattivare il plugin aggiuntivo che magari avete installato all'interno del vostro sito per creare i moduli di contatto all'interno del vostro sito. Perché ancora se vi faccio vedere vado a ricaricare la pagina ed ecco qua insomma che il modulo dei contatti è sempre inserito all'interno della pagina. Perché ovviamente abbiamo creato utilizzando Elementor. Ok ragazzi come avete visto all'interno di questo video tutorial andare a creare un modulo di contatto utilizzando il plugin Elementor Pro è davvero molto molto semplice. Non so se sapevate già più o meno come fare comunque spero di avervi un po' schiarito le idee con questo video tutorial. Come sempre se vi sono stato di aiuto con questo video vi invito quantomeno di lasciarmi un bel mi piace sotto a questo video così mi aiutate insomma a raggiungere più persone con i miei video tutorial. E se non lo avete ancora fatto potete anche iscrivervi al nostro canale YouTube oppure di mettere sempre un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook. Perché negli anni ho caricato davvero centinaia di video lezioni sempre su questi argomenti in modo completamente gratuito. Che penso insomma vi possano tornare di aiuto adesso o in futuro per i vostri progetti online. Ancora questo in modo completamente gratuito. Comunque ragazzi se avete ancora dei dubbi o delle domande su quello che vi ho spiegato all'interno di questo tutorial. Sentitevi liberi di scrivermi magari il vostro commento qui sotto al video. Sappiate che io leggo sempre tutti i commenti e cerco di fare il possibile insomma per rispondere a più commenti possibili. Ovviamente sempre tempo permettendo. Detto questo ragazzi ancora vi ringrazio per aver visto questo video tutorial fino alla fine. Spero di esservi stato di aiuto. Comunque noi ci vediamo all'interno dei prossimi video tutorial. Quindi io vi saluto e ci vediamo all'interno del prossimo video.